Il procuratore generale dice Chi parla è il procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi, che ha concluso la prima fase dell'indagine avviata dopo la pubblicazione della foto di Gabriel Christian Natal, chjort bendato e ammanettato. E di Rama una nota ufficiale, che l'inchiesta è tutto regolare. Il procuratore aggiunge che all'interrogatorio c'erano i difensori e gli indagati sono arrivati senza bende o manette. I due non hanno detto nulla e i magistrati hanno registrato ogni fase e compilato il verbale. Quindi non hanno risposto agli organi inquirenti italiani. E prima dell'inizio a entrambi gli indagati sono stati letti i loro diritti. Se ci fosse qua stato qualcosa di cui lamentarsi, quella era la sede opportuna, dichiara il procuratore. Ma questo, dice, non esclude che più avanti ci possano essere dei problemi. Ma infatti abbiamo avviato un'inchiesta immediata per verificare ogni passaggio a partire da chi ha deciso di mettere la benda per finire con chi ha scattato la fotografia. Perché anche chi ha scattato la fotografia, che era lì e ha visto, essendo un militare, è complice. Quindi, caro amico, dico io, che hai fatto la fotografia e poi l'hai divulgata nei gruppi della polizia e poi qualcuno l'ha messa sui social, sei parte di quello che è successo. Non sei il fotografo, ma sei parte, in quanto eri lì, come militare. E quando chiedono al procuratore capo se si occupano anche dei carabinieri, lui dice, il mio ufficio è competente per gli aspetti disciplinari. La denuncia presentata dall'arma dei carabinieri sarà invece verificata dalla procura della Repubblica. E si ipotizza dal punto di vista penale l'abuso dei mezzi di costruzione e si dovrà verificare l'eventuale violenza privata. Noi ci stiamo concentrando sui motivi che hanno portato a quella scelta, ma non solo. Dice che saranno identificati tutti i carabinieri presenti in quella stanza per valutare il comportamento di ognuno. C'è chi ha deciso di bendare, c'è chi non ha fatto nulla per impedirlo, e chi non ha poi denunciato l'accaduto, c'è chi ha fatto la fotografia. Quindi, a vario titolo, tutti, vista la fotografia fatta dal carabiniere, tutti quelli che erano lì presenti, adesso saranno perseguiti in diversa forma. A parte, anche adesso questa foto è di dominio internazionale ed è utilizzata da tutte le testate giornalistiche straniere per parlare di questo caso. E poi il procuratore capo dice Quello che rischiano è una sanzione per omessa vigilanza e per omessa denuncia a tutti quelli che erano presenti. Dice che gli accertamenti proseguono, ma soprattutto bisogna identificare chi ha deciso di diffondere quell'immagine attraverso canali non ufficiali. Cioè anche i gruppi chiusi, tra carabinieri, non so, un gruppo di Whatsapp chiuso, un gruppo di Facebook chiuso, e comunque è diffusione attraverso un canale non ufficiale, perché un canale Facebook dei carabinieri, per quanto chiuso, è sempre un canale Facebook, non è un canale ufficiale. Questo vuol dire il procuratore generale. E poi il salto dal canale chiuso, dal gruppo chiuso, ha presa la foto e postata su canali social aperti, liberi. Quello è un altro salto e qualcuno lo ha fatto. Il procuratore dice che non gli era mai neanche comunque capitato di dover indagare su un qualcosa di simile e aggiunge che la legge vieta di ritrarre persone in stato di costruzione. Però in questo caso posso dire meno male che abbiamo visto quell'immagine, perché così ci consentirà di perseguire chi non ha fatto il proprio dovere violando le regole in maniera, e dice, finale, gravissima. Quindi anche se la foto può sembrare, visto la gravità del delitto, nulla, dice ma era lì seduto con una calza davanti agli occhi, cosa volete che sia di fronte all'uccisione, quello che hanno fatto questi due esseri, però se voi descontestualizzate e prendete solo la foto e più la pubblicazione di questa foto diventata di dominio pubblico, se voi guardate solo questo fatto, senza guardare che poi hanno ucciso, sono complici, solo la foto è un atto comunque grave sotto l'aspetto della giurisprudenza e delle leggi italiane. Ovviamente se poi lo collegate a quello che è successo, le due cose hanno un peso notevolmente differente. Credo possiate capire la differenza che sto fotografando, non giusto stiamo parlando di fotografia, la differenza che sto visualizzando. grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.